Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, commemorazione dei defunti nel primo weekend di novembre. Per quanto riguarda la viabilità e il trasporto pubblico è previsto un potenziamento sino a domenica delle linee C, i collegamenti bus per i cimiteri cittadini. Sabato chiusura al traffico nell'area del cimitero Laurentino per la visita di Papa Francesco. Vanno avanti le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea C sino al Colosseo, per questo motivo ancora per oggi, questa sera dalle 21, il tratto Malatesta San Giovanni della Metro C sarà sostituito da bus. Da domani poi e sino al 7 di dicembre una nuova fase delle attività. Le ultime corse dei treni dai capolinea partiranno alle 20.30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni, poi ci saranno i bus navetta. Grazie a tutti.